Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere le migliori nuove edizioni manga in uscita nel 2024. È ufficialmente il primo video dell'anno e ci tengo anche a fare gli auguri di buon anno a tutte le persone che stessero guardando il video. Buon 2024 a tutti! Nei prossimi giorni vi porterò anche il video relativo ai migliori nuovi manga in uscita. È una tipologia di video che porto sempre all'inizio dell'anno, serve anche per fare un piccolo reminder sui titoli che usciranno Per scambiare ovviamente con voi qualche parere nei commenti. Fatemi sapere quali sono le nuove edizioni che più voi state aspettando. Per alcune nuove edizioni non c'è ancora una data di uscita ufficiale, mentre per altre sì. Direi di non perdere altro tempo e di partire dalla prima nuova edizione, probabilmente la più attesa, l'Extreme Edition di Kenny il Guerriero. Avrà un totale di 18 volumi, come sappiamo Planet Manga ha detto che avrà il formato anche delle altre Kanseman di questa casa editrice. Sarà un'edizione grossa, ma vi ricordo che non sarà cartonata come quella americana, andrà ad adattare fedelmente l'edizione giapponese. Non credo che Okuto no Ken abbia bisogno di nessuna presentazione, in Italia ha avuto già diverse edizioni, portato inizialmente da Granata Press. Negli anni 90 poi è stato pubblicato anche da Star Comics, con l'edizione in 27 volumi che è anche quella che posseggo io. Poi è uscita successivamente la meravigliosa edizione della D-Visual e successivamente l'edizione di Planet Manga, che era appunto l'ultima edizione uscita italiana. Mi aspetto moltissimo da questa Extreme Edition, è davvero un'edizione fantastica, probabilmente la più attesa del 2024 da tutto il pubblico. Aspettiamo solamente che Panini ci dica qualcosa sulla data di uscita ufficiale. Passiamo alla seconda nuova edizione, è quella di Pandora Hearts di Junmo Chizuki. Annunciata come Ken a Luca Comics, sarà un'edizione con un totale di 12 volumi, adatta ai 24 standard di Pandora Hearts. Già pubblicato sempre da Star Comics, questa era la precedente edizione. Uscita ormai nel 2012, molti volumi purtroppo sono diventati irreperibili. Serviva sicuramente quella che fosse una nuova edizione per andare a scoprire questo meraviglioso manga shonen. Uno dei miei manga shonen preferiti in assoluto, Pandora Hearts ad avere una storia meravigliosa. Personaggi indimenticabili, una bella dose di mistero e un intreccio narrativo superlativo. Non si sa ancora quando uscirà e soprattutto non si sa ancora come sarà. Io mi aspetto qualcosa di simile all'edizione inglese, quella super lusso proposta anche con un bellissimo cofanetto. Spero che Star Comics faccia qualcosa di simile. Sono anche quelli 12 volumi e sicuramente l'edizione è estremamente pregiata. Le aspettative in questo caso sono belle alte. Andiamo avanti sempre con dei manga che verranno proposti da Star Comics, delle nuove edizioni. Di queste abbiamo già la data ufficiale di uscita. Abbiamo Aula la deriva di Kaso Mez, che uscirà il 30 gennaio al prezzo di 17 euro a volume. Saranno un totale di 6. L'edizione è una 15x21, avrà 320 pagine in totale. Uno dei titoli più amati del maestro Mez, pubblicata in Giappone tra 72 e 74 in 11 volumi originali. Mi aspetto davvero tantissimo, non ho mai letto Aula la deriva. Ma ho sempre sentito degli ottimi pareri, tant'è che molte persone la classificano come miglior opera dell'autore. Ad esempio la stessa Aula la deriva è stata anche fonte di ispirazione per Kanoku Inuki. La regina del manga horror giapponese, portata in Italia da Dinit, è stata una delle opere che l'ha maggiormente influenzata come autrice. Viene classificato come un classico dell'horror, ma anche del survival e della psicologia. Ovviamente verrà proposto per la Kaso Mez Collection. Mancava ovviamente il titolo per la collana. Vi ricordo che il manga era già stato proposto da Ikari Edizioni, con appunto un'edizione in tre volumi giganteschi. Ma purtroppo alcuni erano diventati difficilissimi da essere reperiti. Quindi davvero sono contentissimo di questa nuova edizione, non vedo l'ora di averla tra le mani e appunto leggerla. Andiamo avanti con la prossima nuova edizione, sempre di Star Comics, è quella di Mermaid Melody. Che ritorna in Italia dopo essere stato pubblicato da Playpress e da GP Manga, ormai davvero parecchi anni fa. L'edizione sarà una 12x18, sarà proposta con un totale di tre volumi, una 2 in 1 che andrà ad adattare i sette standard. Ovviamente la sovracopertina non avrà pagine a colori, perché proprio questa edizione in Giappone non comprende pagine a colori. Quindi è giustissimo che all'interno dell'edizione non vengano proposte. Star Comics cerca sempre di proporre il materiale originale giapponese. L'edizione in questo caso nasce così già in Giappone. Infatti possiamo vedere anche dalle prime immagini che sarà praticamente uguale. I primi due volumi costeranno 9€ l'uno, mentre l'ultimo costerà 12€, perché è un pochino più grosso e comprende all'interno più pagine. Prezzo quindi che sarà praticamente di 4,50€ per ogni volume non è per niente alto. Anche abbastanza in linea con le altre edizioni dello shoujo che stanno uscendo ultimamente per questa casa editrice. Ovviamente si intende di nuove edizioni. Abbiamo visto Mars, St. Tale, Miracle Girls, Kamisama Kiss ad un prezzo molto simile. E credo che questa ormai sia la linea che Star Comics ha deciso di proseguire per le nuove edizioni shoujo. Uscirà anche un box dove all'interno saranno disponibili i tre volumi a una bella illustrazione. Il box sembra fatto bene, è sovrapprezzato perché è un po' sovrapprezzato. Andrà a costare con un totale di 35€ e all'interno non ci sarà materiale extra. Ma già è tanto che arrivi la nuova edizione di Mermaid Melody. Sembrava impensabile fino a pochi anni fa. Vi ricordo che la data di uscita è stata spostata, non sarà più a gennaio. Ma uscirà il 6 febbraio. Il cofanetto è da 35€ e i volumi saranno disponibili anche per essere acquistati sfusi. Andiamo avanti invece con un'altra nuova edizione che uscirà per Star Comics. Questa volta non abbiamo la data di uscita, è stata annunciata a Luca Comics. È One Pound Gospel di Rumiko Takashi. Contentissimo anche per questa nuova edizione. Ormai sappiamo che Star Comics sta riproponendo la gran parte delle nuove edizioni per l'autrice. Negli ultimi anni abbiamo avuto la nuova edizione per le sue opere più importanti. Inuyasha che attualmente è ancora in corso. Rama Mezzo, Meison Ikoku, Lamu. La Saga delle Sirene. Adesso arriva anche One Pound Gospel. Che è stato scritto in Giappone tra l'87. E concluso nel 2006. È ripreso dopo una pausa durata 10 anni per l'autrice. In Italia ovviamente non è la prima volta che esce. L'edizione completa è stata proposta nel 2008 che comprende tutti i quattro volumi originali. Includendo anche l'ultimo volume che non era stato proposto invece nel 97. Avrà un totale di due volumi. È una due in uno e sicuramente avrà lo stesso formato delle altre nuove edizioni della Takashi. Me l'aspetto molto ma molto simile a quella di Mermaid Saga. Quindi con magari qualche innesto particolare sulla copertina. È comunque un manga spokon della Sensei. Sono curiosissimo. Mi manca tra le sue letture. È un'autrice che io apprezzo moltissimo. Ogni volta riesce a darmi tantissime emozioni. E concludiamo il video con quelle che sono le ultime due nuove edizioni che sono in uscita. La prima è di Planet Manga. È stata annunciata recentemente su Anteprima. Vi sto parlando di Cuore di Menta. Che riceverà a tutti gli effetti quella che è una nuova edizione da quel che ho capito. Non dovrebbe essere infatti una ristampa della vecchia edizione uscita. E se nel caso fosse una nuova edizione per il manga di Wataru Yoshizumi. Spero che adatti lo stesso formato simile a quello di Marmalade Boy. Della Cancelman. Ovviamente così anche per avere una continuità. Se nel caso dovesse essere una ristampa è l'edizione in tre volumi. Ve l'ho mostrata più volte nei video. Cuore di Menta è un bel manga della Yoshizumi. Un gradino sotto magari a Marmalade Boy. Ma comunque sa far intrattenere. Sa far ridere. Anche se si perde un pochino nella fase finale. Però è un titolo per chi vuole scoprire l'autrice. Per chi vuole approfondirla. Che io consiglierei. Sono contento anche che Planet Manga stia ripuntando di nuovo su questa autrice. Comunque è stata molto importante negli anni 90 dello shoujo. Speriamo che dopo Wataru Yoshizumi venga riscoperta qualche altra mangaka portata sempre da Planet Manga. C'è sicuramente bisogno di andare a riscoprire qualche autrice. E concludiamo il video con l'ultima nuova edizione. Che invece sarà portata da J-Pop. Vi sto parlando di Guru Guru. Come sappiamo annunciato a Luca Comics è stato ben apprezzato soprattutto dalle persone che hanno visto l'anime qui in Italia. Io ammetto che era un titolo che non conoscevo moltissimo. È stato pubblicato in Giappone tra il 92 e il 2003. Con un totale di 16 volumi nella sua edizione standard originale. Questa edizione che verrà proposta in Italia sarà una 2 in 1 con un totale di 8 volumi. Avrà sicuramente delle pagine a colori. Guru Guru è un fantasy che è andato anche molto bene in Giappone. Era stato già proposto da Dinit in una edizione poi interrotta in 9 volumi. L'anime ha avuto anche un bel successo in Italia tra il 2001 e il 2002. Ho visto che a Luca Comics è stato un annuncio che ha fatto contenti di più. Vi darò sicuramente una chance appena uscirà il primo volume. Buonissime aspettative anche per questo titolo. Quindi siamo arrivati alla fine del video sulle migliori nuove edizioni da prendere in questo 2024. Fatemi sapere ovviamente quelle che più voi state aspettando. Se ce ne sono altre oltre a quelle che vi ho presentato. Ce ne sono ovviamente anche altre in uscita che non sono andato a mettere. Queste sono quelle che più io vi consiglio. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.